Comando Provinciale Comando Provinciale Il presidente Franzone del Mazzara Calcio traccia il bilancio del 2017 e si pone obiettivi ambiziosi per il 2018. Buon pomeriggio, ben ritrovati al consueto appuntamento con il Tg8 Informazione. In apertura parliamo dell'incontro con la stampa che questa mattina il colonnello Stefano Russo, comandante provinciale dell'Arma, ha avuto per illustrare l'attività svolta nel 2017. In calo il numero complessivo dei reati, che sono passati da 16.000 a 13.000, con una percentuale del 14% in meno. Inoltre, in calo anche il numero dei furti, l'8,6% e delle rapine, che sono passate da 152 a 140. Questi risultati, ha detto il colonnello Russo, sono frutto di un'intensa attività, soprattutto preventiva, svolta su tutto il territorio della provincia, dalle 5 compagnie dei carabinieri e dalle 34 stazioni. Un'intensificazione dell'attività preventiva, che trova il riscontro anche nei numeri, ben 27.599 i servizi esterni, nel corso del quale i militari hanno controllato 116.000 persone, il 10% in più rispetto all'anno precedente. Sono state 2.300 le perquisizioni effettuate, nel contrasto della comunità organizzata, il comando provinciale dei carabinieri, in collaborazione con le procure di Trapani, Marsala, Sciacca e la DDA di Palermo, ha sviluppato indagini che hanno prodotto più di 500 arresti e la denuncia di 3.300 persone. Particolarmente incisiva anche l'azione nei reati di stupefacenti, dove sono state arrestate 81 persone e 205 denunciate e sequestrati 511 kg di stupefacenti di vario tipo e 1.105 piante di marijuana. Intensa anche l'attività di ricerca del superlatitante Matteo Messina Denaro e anche quello di disarticolazione. della rete di protezione fatta da amici e parenti e collaboratori. Cambiamo argomento, chiesto il rinvio a giudizio per otto persone coinvolte in un giro di prostituzione tra Marsala e Mazzara. Si terrà il prossimo 3 gennaio, davanti al GUP Francesco Parrinello, la prima odienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Marsala per le otto persone coinvolte lo scorso ottobre in un'indagine dei carabinieri denominata Operazione Caliente, che ha fatto luce su un giro di prostituzione tra Marsala e Mazzara del Vallo. Il processo è stato chiesto per Matteo Giacalone, 66 anni, pensionato, pregiudicato ed ex collaboratore di giustizia, Ivelin Mariza Ortiz Hernández, di 48 anni, ecuadoregna, Annarrita Donato, di 49 anni, Filippo Trapani, di 61, Alves Eliane Marcelino, di 42 anni, brasiliana, Augustin Didia, di 28 anni, romeno, Pietro Lombardo, di 30 anni e Francesco Tumbarello, di 60. Secondo l'accusa, Giacalone ed Hernández sarebbero gli organizzatori del giro di squillo, tutte sudamericane. Le case a luci rosse erano quasi tutte nel centro di Marsala. Otto gli appartamenti sequestrati in ottobre dai carabinieri, sette a Marsala e uno a Mazzara. Annarrita Donato avrebbe affittato un appartamento in cui le prostitute ricevevano i clienti. Braccio destro della Hernández sarebbe stato Filippo Trapani. A reclutare ragazze brasiliane sarebbe stata Alves Eliane Marcelino, mentre Augustin Didia avrebbe venduto la marijuana da utilizzare con i clienti durante le prestazioni sessuali. Altri appartamenti sarebbero stati messi a disposizione da Pietro Lombardo e da Francesco Tumbarello. Per quest'ultimo titolare di un'agenzia immobiliare di Marsala, lo scorso 6 ottobre il GIP dispose la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di agente immobiliare per sei mesi. L'indagine, coordinata dal PM Antonella Trainito, sfociò inoltre due arresti e cinque avvisi di garanzia. In carcere finì Matteo Giacalone, difeso dall'avvocato Diego Tranchida, mentre gli arresti domiciliari fu posta Yvelin Mariza Ortiz Hernández, che con Giacalone viene ritenuta l'organizzatrice del giro di squillo. La Hernández, difesa dall'avvocato Francesca Frusteri, avrebbe indirizzato il flusso di clienti nei vari appartamenti. Per gli investigatori era lei, insieme a Giacalone, la mente dell'organizzazione. Le indagini scattate nel 2013 hanno permesso di accertare come fosse la Hernández a definire l'agenda degli appuntamenti, riferendo le qualità fisiche e professionali delle giovani donne a coloro che ne fossero interessati. Anche l'aspetto economico sarebbe stato gestito dall'Hernández, che dalle giovani prostitute avrebbe preteso non solo un contributo economico per la locazione degli immobili, uno dei quali a Marsala ha preso in affitto da Annarrita Donato, ma anche un importo giornaliero di decine di euro, variabile a seconda delle prestazioni, arrivando ad accumulare in un mese migliaia di euro. Il vice della Hernández era Filippo Trapani, marsalese di 61 anni, che durante l'assenza dall'Italia dell'Equadoregna, si sarebbe occupato della gestione, della sistemazione, del trasporto e dell'esigenza delle prostitute. Matteo Giacalone, invece, grazie alla brasiliana Alves Serial Marselino, avrebbe reclutato ragazze straniere da sistemare in abitazioni nella sua disponibilità. Alle giovani prostitute Giacalone avrebbe assicurato protezione, rendendosi irreperibile in caso di problemi con i clienti, che si sarebbe preoccupato di procacciare, suggerendo anche quale cifra chiedere in caso di prestazione a domicilio. Il 66enne, pregiudicato marsalese, si sarebbe occupato anche di procurare la marijuana acquistata dal romeno Augusto Indidia, da cedere alle ragazze e da utilizzare con i clienti durante le prestazioni sessuali. Oltre a Tranchide e Frusteri a difendere gli imputati sono gli avvocati Vito Cimiotta, Giovanni Galfano, Vitalba Pipitone, Monica ed Edoardo Alagna, Stefano Rossi e Marco Perrone. Incendio ieri sera a Castelvetrano, all'interno di un appartamento disabitato situato nella via Nicolo Garzilli. Sul posto è intervenuta anche la polizia, non sono note le cause dell'incendio che ha riguardato i pochi beni presenti all'interno dell'abitazione. Questa mattina, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, tutte le corse da Milazzo per le Olie, da Trapani per le Egadi e Pantelleria, da Palermo per Ustica e da Porto Empedocle per le Pelagio sono state annullate. Stoppa i collegamenti a causa del maltempo con una bufera di vento con raffiche fino a 50 km e un mare a Corsa 7 che ha ovviamente sconsigliato di partire. L'assessore regionale all'energia, Vincenzo Figuccia dell'Udc, si è dimesso. Oggi più che mai sento di essere un uomo libero e da tale condizione continuo a portare avanti le mie idee, ha detto lo stesso Figuccia, che nei giorni scorsi aveva polemizzato con il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè sugli stipendi d'oro. I capigruppi della maggioranza l'avevano invitato a lavorare senza alimentare polemiche. Anche lo stesso Presidente della Regione, Nello Musumeci, aveva invitato i propri assessori a lavorare e a tacere. Ma sentiamo in particolare la posizione presa da Nello Musumeci che garantisce non ci saranno aumenti agli stipendi dei superburocrati. Noi che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo avere grande senso di responsabilità. In un momento di grande difficoltà economica credo che gli stipendi dei funzionali dell'Ars già dignitosi non debbono essere aumentati. Lo ha detto il Presidente della Regione, Nello Musumeci, parlando del tetto degli stipendi dei burocrati dell'Ars e che è stata al centro di un'aspra polemica tra il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e Vincenzo Figuccia, l'esponente dell'Udc che ha anche rassegnato le dimissioni da assessore regionale. Musumeci ha anche annunciato una prossima rotazione dei dirigenti. Stiamo lavorando alla rotazione dei dirigenti della Regione. Abbiamo predisposto il prospetto. Non ci sarà alcuna penalizzazione. La rotazione è un atto di trasparenza che consente ai direttori di trovare nuova lena e nuovo entusiasmo. Speriamo che le fasce intermedie del personale avranno la piena consapevolezza che il clima è cambiato. Musumeci ha anche gettato acqua sul fuoco sulla vicenda Figuccia. Non c'è nessuna crisi politica. Le dimissioni non sono elemento di grande novità, dice Nello Musumeci. Bisogna avere rispetto. Figuccia ha deciso, con una lettera densa di umanità, di lasciare il ruolo di assessore. Questo dispiace a tutti noi. Dobbiamo rispettare questa scelta. Ma ribadisce, non c'è nessuna crisi politica perché il partito di appartenenza ha confermato fiducia alla maggioranza e conclude, io ho avvocato a me la delega dell'assessore Figuccia, vi farò sapere quando sarà sostituito. Punto e basta. E ieri è stata anche giornata di elezione dei componenti della Commissione parlamentari. Con 45 voti a favore, due assenuti e un voto contrario, ecco l'elenco dei componenti. Affari istituzionali, Stefano Pellegrino di Forza Italia, Elena Pagana del Movimento 5 Stelle si è fermata a 5 voti. Attività produttive, Orazio Ragusa di Forza Italia, Cultura, Formazione e Lavoro Luca San Martino del PD, Bilancio Riccardo Savona di Forza Italia, Territorio Ambiente Giussi Savarino, Sanità Margherita, La Rocca Rubolo dell'Udc. Ritorniamo a parlare di cronaca giudiziaria, un agente assicurativo di Marsala sotto processo per appropriazione in debita e truffa. Citazione diretta a giudizio per un subagente assicurativo marsalese, il 43enne Renzo Gerardi, è accusato di appropriazione in debita e truffa. Il processo inizierà il prossimo 28 marzo. Secondo la procura, si sarebbe appropriato di quasi 100.000 euro incassando il denaro pagato da parecchi clienti per l'acquisto di polizze assicurative, denaro che invece avrebbe dovuto versare nelle casse della società lo giudice Carmelo e CSRL, operante in qualità di agente generale e libera gestione per la zona di Palermo e Marsala delle imprese Società Cattolica di Assicurazione Soccoop e Genertel Life Il reato di truffa invece sarebbe stato commesso in danno di quattro assicurati, il cui pagamento delle polize da 300 a oltre 2.000 euro sarebbe stato registrato sulla piattaforma online con notevoli ritardi da 20 giorni fino a un mese e mezzo. Parti offese sono state dichiarate Carmelo Lo Giudice, assistito all'avvocato Ezio Di Marco, Angela Raffaele, Benito Ottoveggio, Michele Massimo Romeo e Antonino Lamia alla prima udienza del processo potrebbero costituirsi anche parte civile a difendere Renzo Gerardi e l'avvocato Salvatore Fratelli che afferma dalla ricostruzione dei fatti posti a fondamento delle contestazioni non emergono condotte tipicizzate da artifici o reggiri realizzate dal Gerardi. L'imputato non ha truffato nessun cliente in merito all'appropriazione in debita nei confronti dell'agenzia assicurativa ritengo che non possa essere considerata tale in quanto lo stesso Gerardi vantava ingenti i crediti proprio nei confronti della stessa agenzia ritengo che il dibattimento chiarirà tutta la vicenda i fatti contestati si sarebbero svolti tra febbraio e aprile di quest'anno. Saranno destinati al sostegno di anziani e famiglie a basso reddito le somme recuperate dal comune di Valderice nella lotta all'evasione tributaria e fiscale ieri mattina è stato firmato con i segretari generali della provincia di Trapani dei sindacati CGL Antonella Granello Teresina Fodale della Cisle Leo Falco della Will e il protocollo di intesa proposto dalle organizzazioni sindacali l'amministrazione ha assunto l'impegno a destinare il 100% del gettito recuperato per potenziare le politiche sociali e di lotta alla povertà teresimo incidente automobilistico la sera scorsa alla rotatoria del aeroporto di Birgi intorno alle 3 di notte un SUV ha divelto il guardrail già in precari condizioni l'auto proveniva da Marsala alla fine dello sperimento veloce ha urtato violentemente contro la barriera le condizioni delle persone a bordo per fortuna non destano preoccupazioni solo contusioni e tanto spavento per rimuovere il mezzo è stato necessario l'intervento del carroattrezzi rimaniamo a Marsala lo stagnone quale presidio dell'acquacoltura l'obiettivo la conservazione dell'ecosistema e lo sviluppo turistico il comune di Marsala ha presentato una manifestazione di interesse sul relativo avviso della regione siciliana al fine di partecipare alla selezione di soggetti pubblici attuatori di un programma progettuale finalizzato al recupero alla conservazione e alla valorizzazione dello stagnone di Marsala e delle saline mediante la funzione di presidio ambientale da parte dell'acquacoltura partner dell'iniziativa sono il libero consorzio di Trapani gestore della riserva naturale con il quale è stato sottoscritto un apposito accordo di collaborazione e il consorzio universitario della provincia di Trapani istituto di biologia marina quale organismo pubblico competente a fornire il necessario supporto scientifico nella realizzazione delle attività progettuali queste in particolare riguardano un censimento delle specie acquatiche presenti nello stagnone per definire la loro densità di distribuzione rispetto al passato e produrre una carta ittica che ne regolamenti la conservazione la realizzazione di un centro della biodiversità all'interno di Villa Genna struttura che si affaccia sulla laguna il sostegno ad attività produttive quali la salicoltura e la piscicoltura nonché a quelle turistiche che tengano conto dei modelli di sviluppo sostenibile e responsabile lo stagnone è un'area che accomuna ricchezze biologiche paeseaggistiche archeologiche e pertanto la sua conservazione e valorizzazione sono priorità assolute afferma il sindaco Alberto Di Girolamo al tempo stesso puntare sull'attuazione del presidio ambientale da parte dell'acquacoltura significa contribuire allo sviluppo economico e turistico della riserva naturale con positive ricadute sull'intero territorio sarà ora compito della commissione esaminatrice nominata dall'assessorato regionale all'agricoltura Dipartimento Pesca Mediterranea valutare il progetto che vede capofila il comune di Marsala in un anno a Trapani si superano abbondantemente le 1200 patenti ritirate sul territorio provinciale la commissione istituita dal ministero dei trasporti della salute che si riunisce una volta al mese presso la cittadella della salute mediamente esamina un centinaio di pratiche per accertare se ci sono le condizioni di poter ridare la patente di guida ritirata durante i controlli da parte delle forze dell'ordine i soggetti sono la maggior parte giovani ma il problema abbraccia quasi tutte le fasce di età si tratta quasi sempre di persone trovate alla guida con un tasso alcolemico elevato o dopo aver assunto sostanze stupefacenti istituita istituita dall'autorità portuale di sistema una tassa per l'imbarco e lo sbarco dal porto di Trapani da e per le Egadi e per Pantelleria a 52 centesimi a tratta sia per i residenti che per le merci la protesta dei sindaci di Pantelleria e delle isole Egadi sentiamo Il sindaco delle isole Egadi Giuseppe Pagoto e il sindaco di Pantelleria Salvatore Gabriele contestano fortemente quanto deciso dalla nuova autorità portuale di sistema a partire dal primo gennaio 2018 cioè una tassa per l'imbarco o sbarco dal porto di Trapani da e per le Egadi da e per Pantelleria pari ad euro 0,52 a tratta sia per residenti che per le merci e i mezzi trasportati un provvedimento emesso per sostenere i costi della struttura cioè del personale della stessa autorità portuale ritenuto assolutamente immotivato dai due sindaci che contestano nel merito e nel metodo il provvedimento del 20 dicembre di cui non sono stati neppure informati e di cui chiedono la sospensione immediata o la revoca perché penalizza oltremodo gli utenti senza rendere alcun servizio Probabilmente ce lo dovevamo aspettare dicono Pagoto e Gabriele quando le scelte sono verticistiche e senza condivisione accade anche questo veniamo a conoscenza perché trasmesso in data di ieri alle imprese portuali alle compagnie di navigazione alle agenzie marittime di Trapani e non ai comuni e alle comunità che verrebbero penalizzate da tale decisione che con decreto numero 187 del 20 dicembre 2017 il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale dottor Pasqualino Monti ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2018 i diritti autonomi cioè una tassa destinata sia ai passeggeri che alle merci in partenza e arrivano ai porti del sistema portuale tra cui quello di Trapani per quanto riguarda i passeggeri tutti sia residenti che non aggiungono Pagoto e Gabriele viene previsto un diritto autonomo cioè una tassa di euro 0,52 per imbarco sbarco in totale 1,04 euro a viaggio per andate e ritorno per non parlare delle merci o dei mezzi imbarcati sbarcati visti i pochi giorni di preavviso sembrerebbe un regalo di Natale inaspettato anzi davvero sorprendente per fantasia in particolare per i cittadini dell'Egadi e di Vantelleria i due primi cittadini sottolineano di volere impedire che a sostenere i costi del personale qualificato dell'autorità di sistema portuale dal momento che non ci sono in corso interventi infrastrutturali legni di rilievo nel porto siano i già penalizzati i cittadini delle isole e contestano tale scelta chiedendo al presidente Monti che non hanno neppure conosciuto e con il quale non hanno avuto l'opportunità di confrontarsi per le comunità interessate da tali provvedimenti di revocare o sospendere ogni efficacia del decreto fin quando il porto di Trapari non offrirà i servizi degni di un porto che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di persone tra residenti pendolari e turisti i due sindaci chiedono inoltre ai componenti del comitato di gestione di cui fa parte in rappresentanza del comune di Trapani Giuseppe Zaccaria di voler avviare un'attenta ricognizione della situazione e dei numerosi problemi risolti del porto di Trapani e di voler chiedere al presidente Monti la sospensione degli effetti di tale provvedimento o la revoca proprio in considerazione dei pochi servizi resi ai cittadini il comune di Trapani da circa due anni non paga il servizio di pronto soccorso per gli animali randaggi garantito con apposita convenzione dal centro medico veterinario città di Trapani Pietre in Grande e Lella Battiglieri i due veterinari stanchi di questa mancanza hanno comunicato all'ente tramite il proprio legale l'immediato blocco del servizio fino a quando non verranno saldate almeno una buona parte delle fatture scadute per circa 20.000 euro i titolari e l'amoratorio hanno anche informato il presidente del nucleo operativo italiano tutela animali Enrico Rizzi per mettere la conoscenza della scelta che sono stati costretti a fare dopo diverse solleciti l'acqua sarà distribuita a giorni alterni a Castelvetrano già a partire da oggi lo rende noto la commissione straordinaria che ha diramato una nota nella quale informa che a causa del guasto alle pompe dei pozi di captazione si è determinata una diminuazione del flusso delle acque che rende necessario la turnazione per informazioni si forniscono i recapiti telefonici del servizio idrico comunale 0924 909 350 oppure 0924 909 348 per richiedere anche l'invio di un autobotte e sempre a proposito di mancanze idriche anche a Marsala ci saranno problemi questo pomeriggio perché l'Enel interromperà l'erogazione di corrente elettrica nella zona dove sono allocati gli impianti di contrada ponte fiume marella domani invece l'interruzione elettrica interesserà gli impianti di contrada Sant'Anna a causa di questi piccoli disagi potranno verificarsi problemi nell'approvvigionamento dell'acqua nel versante nord del territorio San Leonardo e Birgi e in quello est via Salemi Alta Paolini e Mattarocco ci spostiamo a Mazzara dove la Giunta nella seduta di ieri ha disposto un'ulteriore proroga fino al 31 marzo 2018 del servizio di tesoreria comunale attualmente gestito da Banca Carigie in attesa che si conclude l'ider per la giudicazione del servizio l'amministrazione ha deciso di assicurare la continuità del servizio di tesoreria che sarebbe scaduto il prossimo 31 dicembre Per il Centro Studi La Voce i mazzaresi sono tartassati da tassazioni elevate da parte del Comune per il saldo IMU il peso fiscale è eccessivo e iniquo è venuto a trovarci il Presidente del Centro Studi Girolamo Pipitone che ci spiega il perché La settimana scorsa abbiamo parlato che i mazzaresi sono già tartassati dalle bollette che sono arrivate sui rifiuti oggi intendo parlare anche della tassa IMU che riguarda non solo i fabbricati ma anche i terreni in particolare i terreni le aree edificabili l'attuale amministrazione nel 2010 ha attribuito i valori in base al piano regolatore questi valori già erano abbastanza alti perché poi dal valore e dalla percentuale dalla tassa che è stata stabilita sempre dall'amministrazione che è il massimo consentito si arriva al pagamento che il cittadino deve fare ma come tutti sapete i valori sono crollati sia degli immobili in genere per la crisi che c'è nel mondo che c'è è stata qua che c'è e continua di esserci l'amministrazione non ha tenuto conto di questa crisi era obbligata ogni anno al primo gennaio di ogni anno a rivedere il valore dei fabbricati in funzione alle vendite che erano state fatte nelle aree vicine al libero mercato del valore tutto questo non ha tenuto conto e ammazzare assistiamo ad aree che sono state attribuite valore di 300 euro al metro quadrato e che in realtà ne valgono meno della metà e quindi il cittadino è tenuto a pagare il doppio del massimo io l'ho scritto già come centro studi nel 2014 l'ho riscritto qualche giorno fa i consiglieri che potrebbero intervenire e dare una direttiva a questa amministrazione non lo fanno tutto questo è preoccupante in un paese di crisi dove non c'è più un cantiere aperto dove la gente non riesce ad arrivare a fine mese che tanti se ne vanno la tassazione è la più alta d'Italia la FIAB Trapani Federazione Italiana Amici della Bicicletta ha conferito allo chef trapanese Peppe Giuffre che vediamo nella foto il titolo di socio onerario per il suo impegno e il contagioso entusiasmo profuso nella promozione dell'uso della bicicletta la FIAB è un'organizzazione ambientalista lo statuto riporta come finalità principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico in un quadro di riqualificazione dell'ambiente urbano ed extra urbano in giusura parliamo di sport la società Mazzara Calcio comunica il costo dei biglietti e l'avviata prevendita per la gara di ritorno della somminfinale di Coppa Italia Mazzara Licata che sarà in programma mercoledì 10 gennaio 2018 alle 14.30 con il posto unico a 7 euro con i ragazzi fino a 14 anni che entrano gratuitamente per la gara di campionato che si disputerà domenica 14 gennaio Mazzara Dattilo l'ingresso è in tribuna 10 euro curva e settore ospiti 5 euro ingresso omaggio per i ragazzi la prevendita dei biglietti è in corso presso il bar stadio nei pressi dello stadio comunale appunto Vaccara intanto la squadra dal 27 dicembre dopo il Santo Natale ha ricominciato ad allenarsi con doppie sedute di allenamento e lo farà fino a sabato per poi effettuare la consueta pausa della festività di capodanno c'è stata anche la cena natalizia della società canarina con dirigenti staff e squadra un momento conviviale per uno scambio di auguri e per ringraziare tutti per l'impegno profuso e a proposito di obiettivi noi abbiamo deciso di sentire Filippo Franzone presidente del Mazzara che ha tracciato un bilancio del 2017 e si pone obiettivi molto ambiziosi per l'anno che verrà sentiamo ritengo che sia un 2017 che si è chiuso nel migliore dei modi un anno in cui si sono messi i tasselli quelli che avevo già programmato sin dall'avvento della mia persona come presidente del Mazzara Calcio la società si va consolidando sempre più i risultati sportivi ci accompagnano e indubbiamente meglio di così non poteva chiudersi è indubbio che non possiamo cullarci o crociolarci su quello che è stato fatto dobbiamo prendere a tingere una nuova limpa per affrontare un 2018 ricco di impegni ma con lo giusto spirito con la giusta serenità per poter rincorrere degli obiettivi importanti siamo in corsa per il campionato siamo in corsa per la coppa ed è una vetrina importante soprattutto la seconda competizione che ci può portare a traguardi anche nazionali dove poter mettere in mostra il marchio del Mazzara del Mazzara città del Mazzara cadro nelle competizioni con altre squadre è una coppa che il Mazzara ha vinto due anni fa con un'altra storia un altro presidente adesso sono la dirigenza una dirigenza che ha voglia di fare le cose per bene e penso che la città stessa lo possa testimoniare andiamo lì passo dopo passo abbiamo una gara importante una gara di ritorno importante con una grande formazione una grande compagione che è indicata a calcio che avrà nuovi stimoli sicuramente una nuova guida e un nuovo allenatore e verranno lì a mio avviso per giocarsi la partita per ribaltare il risultato dell'andata noi siamo lì sul pezzo sperando di potere arrivati a questo punto arrivare a giocarci la finale del 30 di gennaio a Troina quindi siamo lì sono convito che qualcosa di buono si possa fare che l'organico è un organico che si è man mano rinsaltato un organico tenace un organico che ha trovato una propria linea guida una personalità importante da mettere sul campo e ci andremo a giocare ci andremo a dare abbiamo sentito Filippo Franzone che ringraziamo per la disponibilità presidente del Mazzara Calcio augurare ai tifosi e alla città un buon 2018 e un ritorno del calcio che conta per soddisfare la fame di calcio che Mazzara ha sempre dimostrato di avere con questo appuntamento ci fermiamo qui l'informazione ritorna puntualmente nell'edizione di domani grazie per averci seguito